Patetici umani Pensavate di annientarci come avete fatto a Saint-Denis? Preparatevi a pagare il prezzo Ehi! Volete morire anche voi? Abbiamo percorso le vie dell'aldilà e oltre, giungendo in queste terre remote. Qui la magia è un dono e un pericolo. Non permetteremo che si diffonda tra gli ignari umani. Noi siamo il concilio, che la loro fine sia rapida e senza rimorso, affinché la bilancia della conoscenza rimanga in equilibrio. Così si conclude questo breve capitolo. Il concilio è intervenuto per fermare il caos e ora si è stabilito in queste lande. La risposta sta nelle mani di coloro che avranno il coraggio di cercarla. La risposta sta nella mani di coloro che avranno il coraggio di coraggio di coraggio di coraggio. La risposta sta nella mani di coloro che avranno il coraggio di coraggio di coraggio di coraggio di coraggio.